Gian Maria non è famoso per caso. Ebbene sì, ci troviamo di nuovo di fronte a un caso di raccomandazione palese. Da essere nessuno a ritrovarsi a Sanremo, ci sono due motivi. Il primo è che è stato spinto tantissimo da questo signore qui. Ed il secondo è che è figlio di questa donna di grande fa. Vi dirò alla fine chi è. Ora partiamo per step. Questo è un famoso bodybuilder americano amico di Gian Maria. E Gian Maria gli ha chiesto di sponsorizzare la sua canzone Mostro, mettendola come sottofondo per i suoi video e scrivendo una caption simpatica. E questo è quello che è successo. Boom di stream sul suo pezzo. Il secondo motivo è che Gian Maria è figlio di Maria De Filippi, che ovviamente ha tantissimi agganci con il mondo della televisione. Recentemente è stato smascherato da striscia alla notizia e costretto a dire la verità. Ma io dico a tutti voi, come avete fatto a non accorgervene? Hanno anche lo stesso nome, Gian Maria De Filippi. Taggatelo tutti nei commenti perché devi smetterla di fare finta di niente. Io sono Matteo Barresi, seguimi per altri scandali.